Salve a tutti di avermi trovato in questo nuovo appuntamento con BlogZain e ZainForum. Volevo informare tutti i nostri utenti che ci seguono con assiduità che il giorno 7 giugno ci sarà la diretta live solo su BlogZain del VVDC, cioè dell'Apple Event che ci sarà giorno 7 dove verrà rilasciato l'iPhone 4G e aspettiamo anche il firmware 4.0. Seguiteci, andate sulla nostra pagina e vedrete un posto simile a questo però con al centro o un riquadro della diretta live o un changelot con tutte le immagini che scorreranno dell'evento. Seguiteci, ci collegheremo verso le 4.30-5, penso perché il video sarà verso le 6, penso, dovrebbe essere verso le 6 come ogni Apple Event. In ogni caso vi faremo sapere, voi visitate il nostro blog e in base all'articolo che metteremo saprete anche l'orario. Va bene ragazzi vi saluto, commentate e iscrivetevi, ciao a tutti!